Il coniglio salta oltre il tronco, il coniglio passa sotto il tronco, si tuffa dentro la sua dana e ci arriva sano e salvo. Un ritratto di questo paese, di questa società molto particolare, di questo film. C'è anche un confronto generazionale tra i vari protagonisti. Domanda, ma davvero questo paese non cambia mai? Siamo sempre uguali nei secoli, negli anni? O c'è qualche speranza? Io credo che qualcuno direbbe la speranza è l'ultimo a morire. Ti dico che io ad oggi i fatti odierni, i fatti di questo periodo dimostrano che poco è cambiato. I fatti dimostrano che c'è ancora tanta strada da fare, soprattutto che il film c'entri un punto. Ossia di quanto possa essere sottile la linea tra l'essere un eroe o l'essere un anti-eroe. Ognuno di noi con le azioni quotidiane può esserlo, restando umani, applicando il buono che c'è dentro di noi alle azioni di tutti i giorni e allo stesso tempo chiunque cerchi di sopraffare il prossimo, chiunque cerchi di fregarsene anche del prossimo secondo me dovrebbe fare due conti con la propria coscienza. E credo che alla fine il film metta di fronte ad una verità, al di là di chi possa essere il colpevole oppure meno. che ogni giorno tutti noi possiamo essere degli eroi ma allo stesso tempo non ci vuole nulla per diventare l'anti-eroe. Io credo che speranza proprio in questo momento non è che proprio ne vedo molta ma vedo la consapevolezza di questo. Oggi credo che la consapevolezza ti può far diventare un eroe se tu decidi e sei consapevole di quello che fai puoi diventare un eroe ma è un eroe piccolo piccolo come era un borghese piccolo piccolo. Oggi è tutto molto piccolo in questo paese, è diventato tutto molto piccolo. Allora forse oggi bisognerebbe cominciare a diventare degli anti-eroe per intravedere. Questo chiaramente ha poco a che vedere con il film ma nel senso che nel film è tutto molto più ambiguo, è tutto molto più opaco ed è tutto molto più affascinante. Ma io parlando della realtà credo che oggi la vera rivoluzione è diventare anti-eroe. Se gli eroi che ci sono oggi sono quelli che vediamo. Il cambiamento sarebbe facile insomma, abbiamo il governo noi del cambiamento quindi più cambiamento di così. Il problema non è il cambiamento in sé, il problema è quello che il cambiamento porta perché se cambi per diventare peggio di quello che eri probabilmente non serve a niente cambiare. Forse il cambiamento dovrebbe portare un'evoluzione, un miglioramento e se questo non avviene è probabile che sia anche inutile cambiare. Non so se stiamo cambiando in meglio o in peggio. Un sospetto ce l'ho ma me lo tengo per me. Così come insomma il personaggio del film cambia. Non so se cambia in meglio o in peggio. Questo poi spetta alla morale di chi guarda e alle convinzioni insomma di chi guarda da dare una conclusione. Però un cambiamento c'è dall'inizio alla fine. Mentre proseguono le ricerche nel territorio circostante per ora senza alcun risultato dal nostro inviato Giorgio Pollini. In un paese tutti si fidano di te. Devi essere i miei occhi e i miei orecchi. Il tuo personaggio Michele parte come un personaggio molto quasi meno che vista nel suo atteggiamento. Poi cambia nel suo interno. C'è secondo te, si può leggere anche un significato sociale della società italiana, dei nostri giorni che mi sembrano interessare di nulla poi si attiva sul quotidiano, sulle piccole cose. Basta un input. Sì, diciamo che è una lettura alla quale francamente dico la verità non avevo pensato. Però è molto italiano questo, sì. Di essere un po' meno freghisti. Poi invece se succede qualcosa uno si fa in quattro per dare una mano. Ecco, una cosa che mi è piaciuta molto del film è per esempio questa redazione dove ci sono ancora l'uomo sulla luna, cioè che si vede che proprio non succede nulla lì da decenni. E' uno che è rimasto un po' rimasto lì, nella fanga. Però invece si muove da un lato per aiutare Giorgio, dall'altro è uno vittima del luogo comune. E forse anche un film sugli ultimi. Un po' sì, però più che altro ecco, secondo me la cosa che mi era piaciuta leggendo la storia è proprio mettere a fuoco che un certo tipo di giornalismo può fare molto male. Grazie a tutti.